Coniugare la piena operatività dei servizi pubblici e dell'attività economica con la massima sicurezza dei lavoratori e dei utenti. A questo servirà lo smart working organizzato in maniera intelligente e flessibile. È stata firmata dai ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative. Una grande prova di responsabilità condivisa, ha detto il ministro Brunetta, per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio.